ecco questo è un esempio di come usare il cane al posto della lava piatti da un sistema più ecologico invece di usare un sacco d'acqua e metterla dentro la lava piatti basta mettere il piatto che si vuole pulire per terra e gecchino in automatico lo lecca tutto fino a quando non è completamente pulito poi gli si dà semplicemente una sciacquatina ed è come nuovo ecco che gecchino è all'opera in meno di pochi secondi tutto sarà completamente lavato ho provato con quasi tutti i tipi di piatti e funziona al 100% a volte gli capita di buttare qualcosa fuori e lecca anche il pavimento il che significa che potrei usarlo per pulire anche il pavimento se probabilmente mettessi un po di burro o qualcos'altro che gli piace sul pavimento vai gecchino che stai per superare il record mondiale poi ti mandiamo alle olimpiadi dei cinesi attento però che ti potrebbero mangiare ecco un'altra posizione e come si può vedere il piatto è quasi pulito in meno di un minuto e 24 secondi in questa maniera abbiamo fatto felici gli ecologisti WWF e non abbiamo spregato l'acqua per i paesi ovviamente che non ne hanno ah ah gecchino hai buttato fuori qualcosa dopo ti tocca raccattarla bravo gecchino ecco le parti più dure sono ovviamente quelle sui lati qua è solo questione di dare abbastanza tempo a giochino che non ne lascia un pezzettino se potesse mangiare anche le formiche